I carabinieri di Fossombrone in collaborazione con il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Fano hanno arrestato e trasferito nel carcere di Villa Fastigi un uomo conosciuto in città comunemente con il nome di Il Nonno. Un volto noto dei carabinieri per i lunghi trascorsi nel mercato illecito della droga alcuni anni fa la polizia stradale di Modena lo fermò in un'area di servizio dell'autostrada A1 con mezzo chilo di cocaina. L'uomo di origini salernitane ma da oltre un ventennio residente a Fossombrone era già stato arrestato dagli stessi carabinieri e i primi di settembre scorso nella sua casa popolare di Fossombrone aveva nascosto una quarantina di grammi di cocaina e tutto l'occorrente anche per confezionare le dosi. Dopo aver trascorso alcuni giorni nel carcere di Pesaro il giudice del tribunale di Urbino gli aveva concesso gli arresti domiciliari con l'ovvio divieto di incontrare persone non diverse dai suoi familiari ma il lupo si sa perde il pello ma non il vizio e quindi ben presto ha riallacciato i contatti con fornitori e tossicodipendenti a cui spacciava la cocaina. Il giudice quindi in virtù della sua condotta recidiva ha aggravato la misura in atto nei suoi confronti con quella della custodia cautelare in carcere per cui è stato portato dai carabinieri nella casa circondariale di Villa Fastigi. In poco meno di un anno con diverse operazioni mirate a Fossombrone i carabinieri hanno arrestato almeno una dozzina di spacciatori e denunciati in stato di libertà altrettanti. La loro età e l'estrazione sociale è delle più disparate così come lo sono le tipologie di droghe spacciate e gli acquirenti identificati. Pertanto si legge nell'informativa dell'arma purtroppo Fossombrone si è rilevata nel tempo essere sempre di più il fulcro della Val Metauro per lo spaccio di stupefacenti. Un fenomeno ed una realtà che è stata fortemente ridimensionata però grazie alla costante azione repressiva dei carabinieri e dal presidio del territorio della compagnia di Fano grazie al quale il tutto si è ridimensionato in termini di ordinarietà.